La strada è formata da una serie di strutture, guardate un po', questo spazio che è compreso tra queste linee è la carneggiata, che cos'è la carneggiata? Questo è il marciapiede, il marciapiede è la parte della strada più o meno rialzata, destinata esclusivamente alla circolazione dei pedoni, delle carrozelle per l'impatto, delle carrozzine che trasportano i neonatri e i nonatri. Il marciapiede non si può andare con la bici, non si può andare con il motorino, questi sono gli stessi ciclabili, si cominciano a vedere anche qui a Cosidone e gli stessi ciclabili servono esclusivamente per la circolazione delle biciclette.